buonasera sono fabrizio extrasound questa sera apriamo insieme a voi un amplificatore integrato valvolare esattamente modello ivo 200 di prima luna bene già intanto abbiamo scatola nella scatola pesa per cui abbiate pazienza bene oltre alla seconda scatola sono stati posizionati anche degli angolari rinforzati ottimo la parte corretta per l'apertura è già aperta non c'è nastro isolante mentre nella parte sottostante c'è il nastro troviamo un paio di guantini giustamente per le parti più delicate dell'amplificatore ci rimettiamo una prima protezione e devo dire che è ben protetto perché guardate com'è ben inserito è veramente ben protetto telecomando pesante e amplificatore nel fondo della scatola che comunque protetta cavo di alimentazione procediamo e andiamo a togliere la nostra busta ecco qua come vedete anche le valvole sono protette una bellissima laccatura un lato il fianco laterale l'interruttura d'accensione e il porta fusibile la parte posteriore potete notare la protezione su tutti gli ingressi su tutta la scocca c'è un ulteriore protezione di pellicola l'altro lato l'altro lato l'interruttura l'interruttura l'interruttura